Io mi chiamo Gemma Zori, sono di Abbasanta, trapiantata d'Iglese da 60 anni e ho 80 anni già compiuti. Ho fatto un intervento di denti fissi in 24 ore, il 25 maggio del 2020. Prima dell'intervento avevo la protesi mobile da tanti anni. Era una scocciatura perché dovevi sempre li togliere, mettere nei bicchiere, insomma un po' scocciate anche quando andavi fuori. Parlando con delle amicizie poi l'idea era andare fuori ma poi mi sono fatta i conti e ho detto mi conviene a Boero perché sono vicinissima se ho dei problemi. Allora la mia decisione è stata di venire qua da Boero a fare l'identi fissi in 24 ore. L'ho fatto subito perché era da fare, era da fare. Durante l'intervento non ho sentito dolore, per niente, proprio ho passato quelle ore di intervento che non me ne sono neanche accorta. Anzi, per la mia età mi sono stati fatti anche i complimenti che non si sono fermati un attimo durante l'intervento. La cosa che mi è piaciuta di più è che posso sorridere, grazie di Dio, posso mangiare, digerire bene per la salvezza dello stomaco, perché masticare bene è tutto. Una gioia perché quando mi sono vista allo specchio ho visto un sorriso quasi da giovane. Una gioia emessa del trattamento, della capacità del personale, l'accoglienza familiare, l'affetto soprattutto, la gentilezza, la competenza, la pulizia, l'igiene, che è una clinica meravigliosa. Consiglierei a tutti che mi conoscono, amici, parenti, di venire alla clinica a Boero perché è ottimo il risultato. Venite perché riparano tutto e anche in fretta. Ringrazio tutto lo staff, i medici, Giulietta è una cara persona, dolce, una vera amica, gli assistenti, tutti quanti, compreso il dottor Boero perché è lui che aveva fatto questa clinica.